Si conclude il ciclo di incontri organizzati dai soci Unicopterrenne della sezione di quarto, siamo con la dottoressa Manuela Maione. Allora, oggi si effettua la spesa simulata, cioè? Cioè, praticamente l'altra volta abbiamo cercato di spiegare alla terza età questa associazione le linee guina per una sana e corretta alimentazione, quindi un po' di teoria. Adesso abbiamo cercato di mettere in pratica quello che loro hanno assimilato durante questo incontro. Sono stati divisi in gruppi? Sono stati divisi in cinque gruppi, sono stati divisi nel gruppo della colazione, lo spuntino mattutino, il gruppo del pranzo, il gruppo dello spuntino pomeridiano, quindi della merenda e l'ultimo gruppo è quello della cena. E adesso si concluderà con un dibattito fra tutti quanti? Sì, si concluderà con un dibattito delle loro scelte perché questa spesa simulata ha questo lo scopo, di far comprendere che la scelta di un prodotto alimentare deve soddisfare il loro fabbisogno, il fabbisogno reale. E noi il fabbisogno dettato praticamente da altre cose. Eccoci con il responsabile del centro anziani e incontriamoci. Allora, questo ciclo di interventi è effettuato da esperti per far capire quali sono i prodotti tipici che bisogna acquistare e come acquistarli e quando. Per noi anziani è stata un'esperienza bellissima perché ci spiega come dobbiamo alimentarci in merito ai prodotti che l'Ipercorp vende. È una linea guida per noi anziani.